Benvenuti in questo nuovo motovlog con la partecipazione di Valeriona è il proprietario di sta moto e sta moto che non è la mia perché è per l'appunto del proprietario della moto le ride 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 andiamo piano allora il senso di questo video sarà portare questa moto a casa del proprietario che l'ha appena comprata e niente nel caso qualcuno di voi non l'avesse capito siamo su Squarna 125 SM anno 2004-2005 e il motore è tutto originale la prizione me la devo abituare ancora un po e niente manubrio originale scomodo comandi originali abbastanza scomodi marmitta originale dal sound o sceno allora partiamo col dire che questa moto l'avevo già guidata per un breve trazzo di strada perché ho dovuto fare la prova per vedere se funzionava come si deve eccetera quindi un pochino 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 di abitudine ce l'ho con questo mezzo in particolare però devo dire che non sono tanto abituato al motard non avendolo mai guidato come esperto se anche tu vuoi rischiare la vita vieni su con te a Roma ma dai a Tadana finizia con il rosso proprio è passato con il rosso hai visto? per il video di oggi possiamo dire che è tutto noi ci vediamo possibilmente domenica prossima se mi passa il blocco creativo con il prossimo video per oggi è tutto e fa domenica prossima sperando che mi passi il blocco creativo ciao 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 e